Il problema dei disoccupati, la situazione è calda non soltanto dal punto di vista climatico ma si surriscalda anche perché ci sono proteste verbali. Però c'è stato un incontro qui al municipio, siamo all'interno del palazzo di città, nel Salone Settecentesco Paolo Zappulla, sindacalista provinciale da Cigeli, anzi il capo della Cigeli a Siracusa ci dice qualcosa, questi incontri avete avuto con la vice sindaco, mi sembra giusto chiamarla vice sindaco perché la dottoressa Crociufa è un commissario che svolge queste funzioni. Mi pare che sia stato un incontro tutto sommato negativo, neanche interlocutorio o sbaglio? No, abbiamo fatto un piccolissimo passo in avanti. Ah, un piccolissimo, vediamo. Sì, questo è il terzo incontro che facciamo col commissario. Stiamo affrontando il problema complicato, difficile di dare risposta ai disoccupati e anche il problema di dare respiro e ossigeno alle famiglie che non hanno reddito e che sono in una condizione disperata. Da questo punto di vista io ho registrato l'attenzione, la sensibilità del commissario, la disponibilità a cercare le soluzioni possibili nei tempi più rapidi possibili. Quindi abbiamo parlato dei cantieri di servizio che dovrebbero partire a settembre, sono otto cantieri già approvati, aspettiamo che la Regione formalizzi l'approvazione e poi si può partire. Abbiamo parlato di borse lavoro nel settore della legge 328, anche questa è una... E la famosa legge riguarda anche Medilli, il piano di zona. Esatto, e che dovrebbe portare a mettere a disposizione dei disoccupati, delle borse lavoro per dare un lavoro temporaneo ma lavoro. E abbiamo parlato anche di un protocollo sugli appalti che permetta di utilizzare la manodopera locale in tutti i lavori pubblici appaltati dal comune, sia che le ditte siano di Augusta sia che vengono da fuori. Sì, questa era una rimindicazione degli operari, comunque dei disoccupati. Esatto, e questa è stata accolta e nei prossimi giorni firmeremo il protocollo, verremo in delegazione unitaria con Cisleville per firmare il protocollo con i commissari e impegnare così l'amministrazione comunale in questo versante occupazionale che può dare dei risultati. Non c'è una sola cosa che può risolvere tutti i problemi, si può operare in più direzioni e vedere quello che intanto è nella responsabilità dei commissari che gestiscono il comune. Infine, per le famiglie abbiamo chiesto e ottenuto un'attenzione particolare. I commissari stanno mettendo a disposizione nelle pieghe delle disponibilità di bilancio una somma da far gestire alla Croce Rossa per dare sollievo alle famiglie che sono in grave difficoltà. E questa è interessante questa notizia, cioè vogliamo chiarirla bene. Il comune darà una somma alla Croce Rossa perché la Croce Rossa poi, non so, dia, non credo denaro. Cosa farà? Acquisti per queste famiglie disagiate? Allora, si sceglie questa strada perché è la più rapida possibile, perché se la gestisce il comune bisognerebbe fare delibere e quant'altro. Mentre affidandola alla Croce Rossa c'è una sorta di corsia preferenziale che permette di gestirla in termini rapidi. Ma da quale pieghe del bilancio vengono? Questo non lo ha detto, però ha detto che le risorse le hanno trovate. Sono delle risorse che metteranno a disposizione. Hanno quantificato la somma? Io credo che sia nell'ordine, perché non l'ha smentito, io l'ho ipotizzato e non l'ha smentito, delle 20-30 mila euro iniziale. Quindi per dare sollievo alle famiglie senza reddito? Alle famiglie, lo si può fare, abbiamo fatto due esempi, fornendo dei pacchi spesa, ma anche pagando gli affitti o le bollette a chi non è in condizione di farlo. Ecco, trovando delle soluzioni che danno una risposta all'emergenza in cui si trovano decine e decine di famiglie di Augusta. Ecco, non è la soluzione ai problemi che abbiamo posto, però è un segnale di attenzione e in questa fase così difficile, fra l'altro sotto Ferragosto, ci pare già un primo segnale positivo. Benissimo, allora con questa notizia positiva, che io penso accoglieranno tutti coloro che sono in condizione di disagio, noi ci congediamo, nel senso che appunto le famiglie disagiate avranno l'opportunità, dalla Croce Rossa, o meglio, la Croce Rossa è il medio, il mezzo, dal Comune, avranno pacchi di spesa o pagamento di affitti di vario genere, o di bollette, bollette, eccetera. Ma questo quando avverrà? Perché voglio sapere quando. Nei prossimi giorni. La Croce Rossa è stata già contattata, c'è un accordo con il Comune, si tratta di metterlo in atto e abbiamo parlato di giorni. Bene, allora con questa notizia noi chiudiamo questo servizio.